benvenuti a tutti ragazzi sono i vertigaming guys caccia al tesoro equipaggiamento del lupo da gran maestro ispezione all'accampamento degli archeologi l'accampamento degli archeologi si trova un pochino più a nord del capanno da caccia di trastamara allora ispezionando l'accampamento vediamo subito uno scrigno illuminato di rosso che contiene il diario di isabel duchamp noi leggiamo il diario e ci dice trova l'entrata delle stanze sotto le rovine praticamente a 100 metri da dove ci troviamo tuttora una volta arrivati alla grotta e avvicinandosi c'è usa però qua c'è scritto qui non puoi collocare oggetti presenti nell'inventario devi trovare la chiave che apre il passaggio delle stanze sotterranee la chiave è esattamente questo rubino porpora insieme alla lettera di george herbert noi leggiamo anche la lettera usiamo il rubino entriamo allora una volta dentro ci saranno un sacco di nemici reth cioè spettri cani fantasma cioè bargest ma a noi non interessa a noi interessa andare avanti nel dungeon andiamo saliamo qui usiamo hard ovviamente sulla parete e ci catapultiamo giù ci catapultiamo giù e andiamo a destra in questa stanza troviamo un witcher che ha fatto croare il soffitto per ai nemici ma ci è rimasto sotto anche lui schema d'acciaio del lupo spada d'argento del lupo e guanti del lupo e siamo a 3 su 6 ma non abbiamo ancora finito non abbiamo ancora finito perché dall'altra parte abbiamo una borsa una sacca da witcher con armatura del lupo pantaloni del lupo stivali del lupo e abbiamo finito leggiamo il diario per completare la missione va bene ragazzi un saluto alla prossima ciao ciao